Sono già passati due anni. Due anni fa i primi segnali della pandemia scatenata da questo virus venuto da lontano ci mettevano in allarme. Certo pochi di noi immaginavano allora che esso avrebbe condizionato così pesantemente e tanto a lungo le nostre vite, obbligandoci a limitare drasticamente le nostre attività sociali e professionali per contenerne la diffusione. Nonostante tutti i sacrifici, sono purtroppo più di 1.400 nella nostra provincia le persone che in questi due anni non hanno superato il contagio. Tra essi anziani, giovani, persone comuni ma anche medici e personale sanitario in prima fila nella lotta alla pandemia. Purtroppo probabilmente tanti di noi hanno perso delle persone care in questo periodo. Anche quest'anno con l'accensione di davanti alla sede del Consiglio Provinciale vogliamo onorarne la memoria stringendoci nel contempo ai loro familiari e vogliamo ricordare anche le vittime della guerra in Ucraina nella speranza che la diplomazia riesca a far tacere le armi e prevalere il confronto. Ogni candela è una piccola luce con la quale invitiamo la cittadinanza a un momento di raccoglimento ma anche a riaccendere speranza e fiducia nel futuro e per non dimenticare.